Torna in funzione l'attacca all'ospedale di Sulmona, ma non sono mancate polemiche e disagi per un disservizio che è durato più di una settimana. A farne le spese, come al solito, sono stati pazienti dirottati ad Avezzano o Casteldisangro. L'ultimo disse, quella vissura qualche giorno fa da un uomo che, dopo essere stato coinvolto in un incendio stradale nei pressi di Via Lamaccio a Sulmona, ha deciso di recarsi presso l'ospedale di Popoli, poiché non poteva sottoporsi all'esame dell'attacca dal momento che il macchinario era ancora rotto. In queste ore ancora una volta il Tribunale per i diritti del malato a gridare allo scandalo. È necessario che Cambi Sistema e l'Organizzazione della Sanità ribadisce con forza un DG responsabile Edoardo Facchini, che più volte ha fatto notare come la nuova TAC giace in magazzino in attesa che si completi la costruzione del primo lotto del nuovo ospedale. Per il legale del Tribunale per i diritti del malato, Katia Puglielli, con la salute delle persone non si scherza. Disaggi di questo tipo dovrebbero essere risolti in poco tempo, non sempre le cose vanno bene, avverte l'avvocato. L'attacca dell'ospedale si era fermata anche in estate, il 25 luglio e poi lo scorso 30 settembre.